Condividete i profitti per combattere l'idolatria del denaro, cambiate le strutture per prevenire la creazione delle vittime e degli scarti e donate di più il vostro lievito per lievitare il pane di molti. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto ai 1100 attori dell'economia di comunione provenienti da 49 paesi e ricevuti in Vaticano imprenditrici e imprenditori che hanno scelto la comunione come stile di vita personale e aziendale. Il progetto, sollecitato dalla fondatrice del Movimento dei Popolari Chiara Lubic, ha stimolato la riflessione del pontefice lungo tre punti chiave, il denaro, la povertà e il futuro. Quando il capitalismo fa della ricerca del profitto, l'unico suo scopo, ha detto Papa Bergoglio, rischia di diventare una struttura idolatrica, una forma di culto. Come non pensare ad esempio alla Dea Fortuna che sta distruggendo milioni di famiglie nel mondo o all'evasione e delusione fiscale che prima di essere atti illegali sono atti che negano la legge basilare della vita o a quelle innumerevoli storture del capitalismo che producono sempre più poveri scarti che poi ci si affanna a cercare di curare. Gli aerei inquinano l'atmosfera, ma con una piccola parte dei soldi del biglietto pianteranno alberi per compensare parte del danno creato. Le società della Sardo finanziano campagne per curare i giocatori patologici che esse creano. E il giorno in cui le impresse di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il suo colmine. Questa è la ipocrisia. L'economia di comunione, se vuole essere fedele al suo carisma, non deve soltanto curare le vittime, ma costruire un sistema dove le vittime siano sempre di meno, dove possibilmente esse non ci siano più.